Il Patto Educativo Globale o Global Compact on Education è l'invito lanciato da Papa Francesco nel settembre 2019 a tutti coloro che operano nel campo dell'educazione, della cultura, dell'arte, dello sport, dello spettacolo, delle comunicazioni sociali, eccetera, per stringere un'alleanza educativa al fine di educare le nuove generazioni alla fratellanza universale. Questo progetto si fondamenta su quattro pilastri che sono i principi fondamentali dell'educazione. Primo, conosci te stesso per scoprire la propria identità e vocazione. Secondo, conosci il tuo fratello per educare l'accoglienza dell'altro. Terzo, conosci il creato per educare alla cura della casa comune. Quarto, conosci il trascendente per educare al grande mistero della vita. Per concretizzare questi principi, il patto educativo globale propone sette percorsi. Il primo, mettere al centro la persona. Secondo, ascoltare le giovani generazioni. Terzo, promuovere la donna. Quarto, responsabilizzare la famiglia. Quinto, aprire all'accoglienza. Sesso, rinnovare l'economia e la politica. Settimo, custodire la casa comune. Il patto educativo globale sarà il risultato di tanti patti educativi locali e dal lavoro in rete con le altre realtà simili presenti nel territorio. Per aiutare in questo lavoro vengono suggeriti degli strumenti che potrete trovare sul sito ufficiale www.educationglobalcompact.com.org come vedete qui nel video. E per finire, come aderire al patto educativo globale? Primo, scrivere una dichiarazione di adesione della propria istituzione al patto educativo globale come suggerito sul sito della sezione strumenti e inviarlo al decastero della cultura e l'educazione, all'indirizzo che trovate sul sito. Secondo, rinnovare il proprio progetto educativo alla luce degli obiettivi del patto educativo globale. Terzo, entrer in rete con le altre organizzazioni educative presenti nel proprio territorio e a livello nazionale e internazionale per un intercambio di idee e buone pratiche e condividere il proprio cammino di rinnovamento all'insegno della proposta del patto educativo globale. Semplice, no? Per altre informazioni scrivete all'indirizzo e-mail che trovate sul sito.